Ecco il brusco, Raffaeleao salta l'uomo e fa assist per il gol del 2-0 del Milan. Eccolo Borini, incrocia bene, in scivolata, da destra verso il secondo palo, quello lungo alla sinistra di Smacchichi, raddoppia il Milan, 2-0 per noi. Grande assist di Raffaeleao, gran giocata di Raffaeleao e poi, bello il traversone, dosato, voluto, mirato, pensato, Raffaeleao per Borini, 2-0 per noi. Goal al...